E' una storia poco conosciuta, riguarda dai 5-7 mila giovani italiani sui 20 anni che dal 1946 al 1954 con la legione straniera hanno combattuto nella guerra d'Indocina per la Francia contro l'esercito di Ho Chi Minh perché la Francia voleva recuperare la colonia e siccome questa guerra era molto impopolare in patria in Francia hanno utilizzato per questo gli stranieri della legione. Tra di loro c'erano decine e decine di altottesini e trentini e appunto migliaia di italiani. Il libro racconta le storie vere di tre giovani di tre ventenni altottesini che non si conoscevano, che per motivi diversi si sono arruolati nella legione o sono stati indotti ad arruolarsi nella legione e che hanno vissuto questa guerra drammatica molto crudele che nulla aveva che invidiare al Vietnam americano. Però questo è un Vietnam, quello dei giovani europei che molti ignorano. Questo non è un saggio di storia, mi preme dirlo, è un libro che racconta storie vere con un ritmo narrativo, con degli inserti narrativi e anche delle foto inedite perché uno di questi tre personaggi, di queste tre persone, Emil Stoker, che ha combattuto per quattro anni nel delta del Tonchino e è stato tre protagonisti della battaglia di Dembiefu, ha scattato oltre mille fotografie che ci sono arrivate fino ad oggi. Come è nato questo libro? Un tema così particolare per una terra come l'Alto Adige? Questo libro è nato quasi per caso perché ho conosciuto uno dei protagonisti nel 2000, mi ha iniziato a raccontare questa storia pazzesca di cui io non sapevo assolutamente nulla. Si tratta di Beniamino Leoni che poi addirittura ha disertato e ha combattuto con l'esercito di liberazione del Vietnam contro i legionari, quindi una storia incredibile. Il suo Vietnam è durato dieci anni. Io quasi non ci credevo, ho iniziato a approfondire e ho conosciuto questa storia quasi rimossa dalla memoria italiana e poi uno drizza le antenne e ogni volta che sentivo qualcuno che parlava di legionari di quel periodo, scavavo, ho cercato, ho trovato altre persone, altre testimonianze, così ho detto devo scriverlo perché non voglio che vadano perdute queste storie.